Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla TPL in direzione mare rallentamenti per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte del Ovest-Ponsacco. Fare attenzione per un mezzo pesante in avaria tra Ginestra-Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Segnalato inoltre personale su strada per lavori tra Interporto-Toscano-Ovest e il Bivio per la A12 ancora in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Bargino. Sulla A12 è chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!